Ciao ragazzi, sono Emilia, una specializzante del terzo anno della Scuola di Endocrinologia di Humanitas. Quindi le attività che svolgiamo si dividono in due macro aree che svolgiamo fisicamente in due sedi diverse. La sede principale, quindi Humanitas, è quella in cui eseguiamo attività prevalentemente ambulatoriali e attività di The Hospital internistico. In The Hospital svolgiamo e eseguiamo test endocrini dinamici per confermare o escludere patologie endocrine ipofisare prevalentemente, oppure eseguiamo attività di infusione farmaci, farmaci antiriassorbitivi per l'osteoporosi. L'ambulatorio invece è diviso in diverse aree di interesse. Abbiamo, e in questo siamo fortunati, la possibilità di fare esperienza e ruotare in diversi ambulatori. La patologia tiroidea da una parte, dove appunto ci occupiamo di carcinoma della tiroide, oltre che di ipo-ipertiroidismi. La patologia dell'età evolutiva, quindi nell'età della transizione seguiamo i ragazzi con problemi endocrinologici come può essere l'ovaio policistico, problemi appunto di crescita, di deficit staturale che appunto aiutiamo questi ragazzi a risolvere, la parte andrologica e l'attività anche osteometabolica, quindi dove ci occupiamo di osteoporosi. Ruotiamo in diversi ambulatori di interesse diabetologico utilizzando anche nuove tecnologie appunto come quella dei microinfusori poi di ultima generazione. L'attività invece che svolgiamo in un'altra sede che fa parte sempre della nostra rete formativa e l'attività di degenza in endocrinologia che facciamo e svolgiamo al Niguarda. In definitiva la nostra scuola ci permette comunque di formarci su diverse aree di interesse endocrinologico, quindi perfezionarci dal punto di vista clinico, di ricerca e poi con l'esperienza all'estero anche di affinare alcune aree di interesse specifico. Vi faccio pertanto un in bocca al lupo e spero di rivedervi prossimamente.